Atalanta tiene gli occhi puntati su un ambito difensore, già oggetto di interesse del Milan. L'Atalanta è alla ricerca continua di possibili rinforzi per rafforzare la sua difesa, anche dopo l'accordo per l'arrivo di Colasinac. Il club italiano starebbe considerando la possibilità di scommettere sul talento del difensore centrale del Tottenham, attualmente fuori dai piani dei Spurs. Ciao ragazzi, sono tornato con altre notizie esclusive dalla nostra Atalanta. E se vuoi sapere tutto in prima mano, lascia un like e iscriviti al canale ora per non perdere i prossimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attenzione sarebbe rivolta a Jaffet Tanganga, che è stato incluso nella lista dei desideri dei Nerazzurri. Tanganga, con la sua qualità e il suo potenziale, ha attirato l'attenzione dell'Atalanta, che lo considera un giocatore promettente per rafforzare la linea difensiva. Il difensore è stato oggetto di interesse in passato da parte del Milan, il che evidenzia il riconoscimento del suo talento nel panorama calcistico. Con questa possibile trattativa in vista, l'Atalanta mantiene la sua posizione di cercare talenti che si adattino al proprio stile di gioco e rafforzino la squadra. Ora non resta che attendere per vedere se l'Atalanta concretizzerà l'acquisizione di Jaffet Tanganga. E tu, tifoso Nerazzurro, cosa pensi di questo possibile rinforzo? Sarebbe un buon acquisto per la Dea? Lascia la tua opinione! Rimani sintonizzato qui sul canale per ricevere tutti gli aggiornamenti su questa e altre notizie dell'Atalanta. E non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale per non perdere alcun contenuto esclusivo. Forza Atalanta!